E' iniziata subito bene la settimana dei pendolari cremonesi che fin dalle prime ore della mattina si sono trovati con maxi ritardi a causa di guassi sulla linea ad un passaggio a livello verso Tore dei Picenardi, 70 minuti per il Mantova-Cremona-Milano delle 6.10, 44 per il Milano-Cremona-Mantova delle 6.20, 25 minuti per il Cremona-Milano delle 6.35, 26 per quello delle 7.40 e via discorrendo. Insomma un lunedì tremendo, fatto di piogge lungattese sui binari misti a tanta e giustificata rabbia da parte dei viaggiatori verso Trenord e le promesse al momento rimaste tali di cambiamento, rinnovamento, soluzioni, settembre è iniziato nello stesso modo se non peggio degli ultimi mesi, assolutamente neri sul fronte del pendolarismo ferroviario che ormai si trova in una situazione che ha del surreale.